Una luce in fondo al tunnel della pandemia. Così l'OMS valuta i dati di quest'ultimo periodo, specialmente in Europa, conforta come il numero di contagi da Covid non stia mettendo sotto pressione le strutture sanitarie. E seppure l'UE ha deciso di mantenere la necessità di Green Pass per gli spostamenti tra stati dell'Unione fino al 30 giugno 2023, la trasmissione del virus, secondo l'Agenzia ONU per la Salute, può essere controllata grazie a tre fattori. E anche l'Italia sembra viaggiare verso la fine dello stato d'emergenza, al momento formalmente prevista per il 31 marzo. Le misure approvate dal governo sulle quarantene e la didattica a distanza a scuola, sulla durata illimitata del Green Pass per quanti hanno fatto il richiamo vaccinale, dispensati anche dalle restrizioni in caso di zona rossa, sono tutti passi sulla via della conquista di una rinnovata normalità. Ma, come ha pure sottolineato il presidente Mattarella nel suo discorso di insediamento, la lotta al coronavirus non è conclusa e non ci sono consentite disattenzioni. Lo testimonia il bollettino odierno del Ministero della Salute, oltre 112.000 nuovi casi, con un tasso di positività al 12,3% e ancora più di 400 decessi registrati. Ma calano i posti occupati in terapia intensiva e nei reparti ordinari, rispettivamente meno 67 e meno 226 sul giorno precedente.